Una domenica decisamente da dimenticare per il Gravina. La Cavese prosegue la sua marcia alla conquista della Serie C al vicino, vincendo con un netto 1-5. Per i gialloblu in zona play-out non cambia moltissimo, ma in vista dei prossimi appuntamenti sarà necessario cambiare passo. Inizialmente la partenza era parsa incoraggiante. Dopo soli 40 secondi punizione di Tonso in aria e inserimento di Tessa di Goretta che si spegne sul fondo. È solo un'illusione perché i Blefonset fanno la partita e dal 25esimo passano in vantaggio. Riceve palla Banegas che quasi dal limite dell'area fa partire un sinistro che non lascia scampo a Mascolo che non arriva in tempo sul pallone. Replica immediata con un tiro di Parisi, alto. Al quarantesimo il raddoppio ospite servito in profondità di Tessa Gagliardi che controlla il pallone lo calcia con sicurezza sull'angolo più lontano 0-2. Al quarantacinquesimo Mugnoz in ripartenza pesca bene foggia in aria per il Tris e proprio sul finire del primo tempo. La gara prende così un chiaro indirizzo e nella ripresa al cinquantacinquesimo il poker lo firma Magri. Calcio di punizione, palla che in aria si abbassa ottimamente per l'inserimento di Tessa del difensore che gonfia la rete. Al cinquantanovesimo i murgiani accorciano le distanze su calcio di rigore dopo un falo di mano. Dal dischetto realizza a goletta per l'1 a 4 e sempre dagli 11 metri la cavese sigla il definitivo 1 a 5 al sessantasettesimo. A metterci la firma stavolta è Bubas.